Elisa, apri, spacchettiamo A me non me l'hanno dato sta confezione bella Le facevano oggi C'è anche un bigliettino all'interno Ma mi sono portato tutti i pezzi dietro Elisa Sì, mi sono portato tutti i pezzi dietro Elisa Giusto Elisa, giusto Elisa Posso leggere? Io non gliel'ho fatto il bigliettino Pura voce alta, voce alta Per questo ambito traguardo raggiunto con sacrificio e corticchio No, le leggiamo i sinceri auguri per Ah, sinceri auguri per questo ambito traguardo raggiunto con sacrificio e corticchio E che sia primo di tanti Da Maria Giulia, Calanni, Fracona Chias Che anche l'ho messa in me? Adesso non ho deciso la mia con del femore Questa non mi ha fatto neanche un bigliettino Oh, ma che vuoi? Ehi, c'è anche tutto Via la carta, via, via, via Se non ti piace, ripeto, puoi cambiarlo Puoi anche la misura E se non ti gusta, non lo so Me gusta, me gusta Io volevo prenderti quello con le filettature in oro Solo che Sabrina mi ha detto che forse non ti piaceva No, preferisco... Era questo qua, guarda Questo qua io Aspetta, dov'è? 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 Aiutami Eccolo qua Quale? Questo, Lisa? Ah! No, preferisco questo Vediamo com'è Ma è il classico No, non è il classico Ah, è quello con gli strassi Grazie Sì, più No, non è Scusa, scusa 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 No, non è il classico Scusa 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 Poi comunque c'è la continenza No, fanno un'altra Scusa Vedeva Aspetta Ma ci facciamo Scusa 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 Auguri, dottoressa Grazie Io amo Scusa Youmi Buon appetito Grazie Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito Quella è quella la mia E questa Buon appetito Quella è buona ho beccato l'emme smettila vale ecco la gelato dolcino time non lo so, io così mai guarda questa qua è un profilo secondario, non è del suo e fa tipo le cose scurando e scrive new post fare pubblicitarie e altre oggi sono a Messina con Emanuele e stiamo andando è il vento tipico di Messina ovviamente, stiamo andando in un locale per mangiare un hamburger spettacolare qui a Messina si chiama Mucca provatelo e lì ci incontreremo con il resto della combriccola che vedrete dopo il video quindi niente noi siamo alle spalle del Duomo e ci vediamo fra un po' siamo tutti al locale stiamo aspettando Alessia ed Emanuela quindi faremo un appello pubblico affinché si spiccino muovetevi quindi loro magari non lo guarderanno no non lo guarderanno ma ci sarà un piacere quando mi guardate non lo guarderanno a Firenze non lo guarderanno non lo guarderanno non lo guarderanno non lo guarderanno ma ci sono le prime non lo guarderanno è un po' è un po' E stasera si diventa tanti maiali Piccolina mi dicono Molto piccolina Cioè proprio bam vai così Qua si sta aspettando tu Uno naturale piccolo Allora Uno piccolo Lo facciamo cioccolato bianco Sì Abbiamo preso alla fine anche lo yogurt Il mio è con Nutella Crema di pistacchi Scagliavorio Ciccioneggiamo No Bene la serata è terminata qui Noi siamo rientrati tutti a casa E sto salendo le scale di casa mia E Nulla Spero che il video vi sia piaciuto Credo che la giornata insieme a me Vi abbia tenuto compagnia E noi ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie